Musica Parte stasera in piazza Gaia Olenti il conto alla rovescia per Expo. Manca un anno esatto all'inaugurazione. Stasera un grande evento. Milanesi chiamati a raccolta per il concerto di Andrea Bocelli. Sulla scena si alterneranno volti noti dello spettacolo come Enrico Bertolino, grandi chef come Davide Oldani e volti storici dell'associazionismo e del volontariato come Don Gino Rigoldi. I protagonisti racconteranno il proprio impegno e i progetti per sponsorizzare Expo nei 365 giorni che mancano al taglio del nastro. Ad aprire i festeggiamenti saluto del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, del commissario unico Giuseppe Sala e del sindaco di Milano Giuliano Pisapia insieme al presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni. In piazza anche la mascotte Fudi che distribuirà gadget dell'evento. Sono passati otto anni dal giorno della vittoria di Milano su Smirne. La situazione delle infrastrutture rende necessaria una vera e propria corsa contro il tempo perché sia tutto pronto per il primo maggio del 2015. Per il momento sono state realizzate solamente la metà delle opere previste sul sito espositivo. Si corre per terminare le infrastrutture collegate all'evento. La Romonza sarà terminata in tempo, mentre sulla Pedemontana oggi è esplosa la polemica tra Roberto Maroni e Giuliano Pisapia. Il sindaco di Milano in mattinata ha rivelato la sua contrarietà rispetto alla costruzione dell'autostrada, immediata la replica del presidente Lombardo. Sono rimasto stupito e sterefatto dalle dichiarazioni del sindaco Pisapia che dice che la Pedemontana è un'opera inutile che va fermata. La Pedemontana è una delle più grandi infrastrutture per la regione Lombardia, utilissima altro che alla mobilità e dire queste cose rischia di creare sconcerto tra gli operatori privati soprattutto e gli investitori.